Giovanni Pensabene, consigliere comunale di opposizione del Comune di Asti, lei porta avanti questa battaglia per fare l'Asti spumante e il Moscato d'Asti ad Asti. Perché? Perché? Banalmente perché si chiama Asti ed è il vino italiano più conosciuto nel mondo ed è l'unico vino di circa 200 tradocche e 12 g che portano il nome di una località, di un comune, in cui il comune che dà il nome al prodotto non può produrre quel prodotto stesso. E quindi noi sembra che sia, possiamo usare anche il termine demenziale, che il Comune di Asti non sia inserito nella zona di produzione. Poi c'è anche motivazione di carattere economico, Asti è un comune agricolo molto importante, più importante della provincia, fino a un paio di decenni fa era anche il secondo comune più vitato della provincia, dietro Costigliole. Oggi è sempre tra i 4 o 5 comuni più vitati, ma ha perso in 20-30 anni circa 1.000 ettari di superficie che sono diventati prevalentemente incolti, che sono diventati presumibilmente un problema di gestione del territorio. Chi non è contrario però dice che ad Asti non c'è mai stato il Moscato, storicamente non c'è mai stato e quando si trattava di entrare nella zona Asti è stata molto tiepida, invece adesso che le cose vanno bene, Asti vuole salire sul carro. È d'accordo su questa cosa? No, la trovo un'obiezione seria, ma non sono d'accordo per nulla. Uno, perché non è vero che non ci siano fonti storiche che testimoniano che ad Asti, nelle cascine intorno ad Asti, alcune anche famose, nell'Ottocento ci fosse già della produzione di Moscato. Due, il fatto stesso che nel 1935 il Duce decide di fare una nuova provincia a cui dà la forma del grappo e dà il nome di Asti, vuol dire che qualcosa nel mondo del vino questa città rappresentava. Quindi le motivazioni storiche mi sembrano tutto sommato infondate. Sul fatto che negli anni 60, quando fu istituita l'Ottocco, ci sia stato un disinteresse degli amministratori, questo è un fatto vero, grave, ma che ha la sua giustificazione. In quegli anni lì in Asti c'erano almeno 4-5 aziende metallomeccaniche che assorbivano 2-3 mila lavoratori ognuna, c'erano 20 mila operai che lavoravano nelle fabbriche. L'agricoltura era un'attività di completamento, ma non era l'attività principale. Oggi è un'attività importante, può essere avere l'Asti, significa garantire un piccolo reddito, piccolo a seconda delle dimensioni aziendali, alle aziende e garantire che aziende che altrimenti chiuderebbero coltivando solo Barbera o altri vini che non vanno sul mercato, di sopravvivere e quindi di avere una presenza sul territorio. Senta consigliere, penso bene, c'è la questione Zonin. Qualcuno dice, ah voi state però facendo la lotta in realtà per poi favorire il gruppo Zonin, che qui ha il Castello del Poggio con una ventina di ettari, non tantissimi, lo 0,2% di tutta la produzione di Moscato che è circa 10 mila ettari. Che cosa rispondete a chi vi dice state facendo un po' la lotta per Zonin? Ma una risposta articolata, uno, il comune di Asti sulla battaglia per il riconoscimento dell'Asti è partita prima di Zonin, nel senso che l'ha fatto quando io ero assessore, abbiamo fatto fare uno studio apposta, l'istituto sperimentale per la viticoltura. Secondo, il fatto che Zonin, un'impresa come Zonin, sia presente sul territorio, garantito che in quella zona, non solo sul comune di Asti, anche per la parte che riguarda Portacomaro e Calliano, delle superfici evitate che sarebbero andate perse sono rimaste in attività. Lì c'è un'azienda di oltre 100 ettari, una bellissima azienda peraltro, in cui lavorano, mi dicono, io non ho contezza precisa, circa 50 persone. Quindi a me sembra un fatto positivo che Zonin sia nella zona di Asti, peraltro non con un investimento di rapina, perché lì ormai da più di 10 anni, forse 15, quindi mi sembra un investimento che vuole essere sul territorio. Il fatto che rivendichi di fare Asti ad Asti, quando comunque un'azienda che ha 30 ettari di moscato, anche nel comune di Costiglioli, quindi può già freggiarsi questa produzione, mi sembra un motivo in più per dire che non c'è bisogno di accodarsi a Zonin, che a spalle larghe può difendersi da solo, ma non c'è neanche da aver timore a comparire in una lotta insieme a Zonin. Io continuo ad essere comunista, anche se faccio le battaglie insieme a Zonin. Senta, un'ultima domanda. Lei è ottimista che Asti riuscirà a fare l'Asti ad Asti? Ho l'ottimismo della volontà. Spero che non prevalga il pessimismo della ragione, perché la ragione dovrebbe dire che oggi deve prevalere questa soluzione. anche perché la normativa, sia nazionale che comunitaria, dice che non è possibile che ci sia un vino che ha il nome di una località che non è inserita nella produzione. La normativa dice che comuni vicini, località vicine a quelle che dà il nome al prodotto, possono essere inserite. va da sé che per essere vicini a quelle che dà il nome al prodotto, deve essere tra quelle che lo producono. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.